Il numero legale c'è stato dopo la fumata nera di lunedì e ieri sera il Consiglio Comunale ha approvato la variante urbanistica per la realizzazione di un hotel all'ex cinema sociale di Pallanza. Voto favorevole della maggioranza di Michael Immovilli, contrario a Vladimiro Di Gregorio, di Sinistra Unita, Astenuti, Forza Italia, Fratelli d'Italia. Non hanno partecipato invece al voto fronte nazionale, sinistra ambiente, cittadini con voi e Movimento 5 Stelle. Via Libera del Consiglio anche al progetto di realizzazione di un parcheggio lungo corso Nazioni Unite a Suna su un terreno che sarà espropriato a privati. Progetto contestato fortemente da Renato Brignone di Sinistra Ambiente e da Roberto Campana del Movimento 5 Stelle perché ha ritenuto troppo elevato il costo, 330 mila euro, per 23 posti auto. L'ho invece difeso il sindaco Silvia Marchionini. Dopo dieci anni riusciamo finalmente a portare a termine questo progetto, potremo permettere di vivere il centro storico di Suna. Favorevoli la maggioranza ai Movigli e Forza Italia, mentre hanno votato contro Di Gregorio, Campana, Brignone, Paola Zanoia, di Cittadini con voi e Giorgio Tigano, del fronte nazionale.